intanto ci restavano da annunciare i finalisti della rana ragazzi uno tommaso zuin marco masetta simone wartignon diego jedrejic patrick martin alessandro borsato simone silveri e alessandro cohan ultimo tempo 1 16 e 0 2 ammessi invece alla finale 0 3 0 4 francesco visentini davide vattolo cesare busatta marco tarzariol alessandro giangreco alessio giunchedi franco liwell natale marco turco bovolenta ultimo tempo 1 10 e 58 possiamo presentare quella che sarà la prossima batteria ovvero la seconda junior femmine in corsia 1 maddalena marconato alla 2 agnese schiavone in 3 andrea elena lion in 4 caterina battaglia in 5 laura mion in 6 silvia stanghellini alla 7 emma casetto 8 giulia tezza chiara alberti 1 18 e 91 aggiungato grazie che